cari amici scherzavo non mi siete né cari né amici non me ne fotte una fava di voi ma non voglio mentirvi è da poco trascorso il natale e mentre gesù ha passato la sua prima notte al freddo al gelo dentro una grotta i ragazzi di torino han trascorso la notte al freddo al gelo sotto i portici per potersi mettere in fila a comprare un fottuto paio di nike a un prezzo irrisorio 170 euro per indossare il paradiso del tanfo la vita è un racconto nei primi anni di vita la tua teoria della conoscenza è sintetizzabile così gli adulti sanno tutto presto questa teoria è ampliata dal seguente corollario gli adulti credono di sapere tutto ma poi cresci e scopri la seconda legge della conoscenza che dice ciascuno capisce quello che può ma è solo da vecchio che metti a punto la teoria generale della conoscenza che dice ciascuno capisce quel cazzo che vuole questo perché le parole mentono già per noi non abbiamo bisogno di mentire i dizionari mentono wikipedia mente è per questo che per il discorso di capodanno mi son procurato un dizionario dell'ottocento scritto da ambrose beers intitolato il dizionario del diavolo per farvi capire vi leggo subito la definizione di uomo animale talmente preso dalla rapita contemplazione di ciò che pensa da perdere di vista ciò che dovrebbe essere la sua occupazione principale è lo sterminio la specie umana si moltiplica con tale tenacia da infestare il mondo abitabile nonché il canada penso che questo dizionario ci sarà molto utile avete presente quello spot che passava in televisione che diceva che l'infestazione comunicativa creata da merci pensieri ed emozioni a basso costo che inondano i social e i media avrebbe intossicato la cultura del paese ci avrebbe portati a comprendere sempre meno il presente abbagliati dai nostri giocattoli sempre meno durevoli e da desideri imposti da altri non potete averlo presente perché la tv non trasmetterà mai uno spot del genere perché i media sono il braccio armato della coglioneria contemporanea la loro mission è renderti impaurito come un leghista e fatalista come uno del pd la tv non trasmetterà mai uno spot che ti inviti a pensare la tv anche quella di stato trasmetterà spot che ti invitano a giocare d'azzardo ovviamente se tu avessi l'impressione di essere l'unico ad avere la malattia dell'azzardo potresti avere voglia di smettere questi spot servono proprio per invogliarti a proseguire lungo la tua strada lastricata di merda e perché tu sia invogliato a farlo non devi avere l'impressione di essere l'unico mona devi pensare che ci siano tanti altri mona che come te impegnano i loro spiccioletti nel miraggio di un guadagno facile e allora amendola ti dice puoi trovarci in ogni angolo del mondo siamo dappertutto noi siamo i membri del più grande gruppo di scomesse online del mondo ovviamente lui lo dice con la dizione perfetta che in questo paese è la accento romano e così nella tua coglioneria non ti senti più solo perché quando si fa una cazzata è meglio farla in tanti come diceva mussolini ma voi li dareste 100 euro a uno che vi ferma per strada e vi dice oh può darsi che io in cambio te ne dia 150 ma può darsi anche che io mi involi con i tuoi 100 e non mi vedi più no che glieli dareste perché lui non fa lo spot con amendola e non ha il logo di un'antica a casa di scommesse perciò i vostri 100 li date a quelli là alle stesse identiche condizioni e così vi sentite meno coglioni anche se siete coglioni uguali perché i venditori di speranza hanno bisogno che tu sia motivato a spendere ma demotivato rispetto alla vita che fai per quanto riguarda il presente avevamo bisogno di una ventata di ottimismo la ventata è arrivata ma non era ottimismo voglio raccontarvi una storia ho salvato un cucciolo di capriolo proprio così era lì fermo immobile nel bosco terrorizzato forse qualche essere inumano aveva ammazzato la sua mamma allora l'ho caricato in macchina e l'ho portato al centro animali non convenzionali devo dire che sulle prime mi hanno anche un po insultato perché hanno detto che stare fermi immobili nel bosco è proprio ciò che fanno i cuccioli di capriolo stanno lì e aspettano che la sera la madre torni ad allattarli sono bestie stupide ora la madre tornerà non lo troverà non riuscirà a svuotare la mammella e sarà una sofferenza per lei mi hanno detto ho trovato tutti un po esterici ma ero contento di avere salvato quel bellissimo bambi oddio salvato diciamo che tra lo stress da manipolazione e il rigetto al biberon poi alla fine è morto certo che la natura sa essere proprio crudele ecco questo che avete appena ascoltato è un post che ho scritto l'anno scorso per stigmatizzare un certo atteggiamento da salvatori del pianeta che non conoscono il pianeta l'ironia mi pare evidente eppure migliaia di follower incassati mi è andato del cretino se ne sono andati dalla mia pagina sbattendo la porta nessuno l'ha sentita ma loro l'hanno sbattuta insomma non solo migliaia di analfabeti funzionali non hanno capito l'evidente ironia del post non hanno capito che un artista non necessariamente fa sui social la cronaca della propria vita de merda non siamo tutti fedez io non ho caricato nessun capriolo in macchina ovviamente è chiaro che a furia di guardare i film de natale se non gli cacina scoreggia non capiscono l'ironia fatto sta che migliaia di tonti hanno sbraitato ergendo la bandiera della loro insipienza poi dopo qualche mese 5 stelle e lega sono andati al governo ma deve essere una coincidenza è una coincidenza perché il pd e forza italia non hanno perso perché quelli hanno fatto le promesse da televendita e quegli altri hanno titillato la stronzaggine della gente il pd e forza italia hanno perso perché hanno governato male ma basta parlare di gossip parliamo di noi perché se facciamo il dibattito su quelle società di mutuo soccorso mentale che sono i partiti non capiremo mai la realtà bisogna fare 10 passi indietro e guardare da più lontano l'uomo discende dalla scimmia se tu metti delle scimmie in una stanza e butti dei petardi accesi sul pavimento dopo un po' otterrai i commenti dei social perché noi certe merde che scrivono frasi come devi morire schiacciato da un rullo vai a fare pompini ai negri brutta troia te la sei cercata ce li immaginiamo stravaccati sul divano che picchiettano un po' annoiati sugli smartphone comprati da media world mentre sorseggiano un maraschino caldo e invece devi pensare alle scimmie con i petardi muori cagna è per questo che fanno tutti quegli errori di grammatica adesso voi avete la memoria di un pesce rosso con l'alzheimer e non vi ricordate delle foto che voi stessi mettevate in giro per parlare male dei cinesi per esempio c'era sta foto che andava per la maggiore mi ricordo quella di un bambino morto un bambino morto lungo il marciapiede le macchine passavano la gente passava e nessuno ci faceva caso perché in cina gira così ora a parte che per pensare che questa notizia abbia un senso bisogna sniffare il dixan ma il problema non sono le fake news il problema è il fake brain di tanta gente è il tuo cervello che pensi che sia affidabile un sito che si chiama il nonno scoreggia punto com un due tre a un certo punto è arrivato un contro ordine non si parla più male dei cinesi perché sono diventati un partner commerciale di tutto rispetto e noi quando lo straniero porta i soldi ci inchiniamo ma dall'altra parte e calando le braghe anche se tu vai dalle parti di piazza duomo a milano e guardi non quella costruzione a pessimo impatto ambientale piena di guglie ma guardi le banche ce ne due chi può permettersi piantumare banche in piazza duomo a milano deutsch bank e bank of china e allora dal dizionario del diavolo straniero un mostro considerato con un grado di tolleranza variabile a seconda della sua capacità di conformarsi agli eterni valori delle nostre opinioni e al mutare dei nostri interessi abbiamo perso il vocabolario è per questo che oggi bruciare gli stranieri è considerata una dignitosa opinione politica e a proposito di opinioni politiche cosa dice il dizionario del diavolo alla voce politica conflitto di interessi mascherato da lotta ideologica tra opposte fazioni certo è difficile confessare a noi stessi che il nostro livello di influenza sull'esistente è pari a quello di un ruzzola merde che spinge un ducato allora prendi un fucile e spari ai fagiani o agli autori di fumetti è uguale il terrorismo non ha mai cambiato veramente il mondo e in ogni caso ne uccide di più l'ignoranza fa più morti un coglione col peperoncino in una discoteca fuori norma che un coglione che spara sulla folla ai mercatini di natale l'unica cosa certa è che la coglioneria uccide ma adesso parliamo di skei senti questa definizione pirateria il commercio come dio l'ha creato qua inutile che stiamo a scannarci per le casacche se abbiamo perso il vocabolario che cos'è il denaro pubblico facciamo dieci passi indietro vi leggo una frase che è stata attribuita a margaret thatcher una donna che vi piaceva perché sembrava un uomo uno dei più grandi dibattiti del nostro tempo riguarda quanto del vostro denaro debba essere speso dallo stato e quanto ne dobbiate conservare e spendere per la vostra famiglia ma la verità è che lo stato non ha altre fonti di denaro se non il denaro che la gente guadagna per proprio conto lo stato può spendere di più soltanto prendendo in prestito i vostri risparmi o tassandovi di più e non sarà qualcun altro a pagare quel qualcun altro siete voi il denaro pubblico non esiste esiste solo il denaro dei contribuenti ha fatto bene a dire contribuenti perché con tutti gli evasori che c'è in italia le tasse non sono nemmeno i soldi di tutti sono i soldi di alcuni cittadini che pagano i servizi per tutti gli altri ma non chiedetemi di fare satira politica è un racconto che non mi appartiene fare satira politica oggi equivale a sputare controvento sbefeggiare un politico gli porta solo dei voti e a me in realtà poi mi fanno pena questi poveretti che per 20 mila euro al mese sono costretti a raccontarti la balla che possono incidere sulla realtà quando è evidente che l'unica cosa che possono fare è appoggiare un mattone sull'acceleratore e star pronti a buttarsi dalla portiera un popolo ignorante genera governi ignoranti un popolo corrotto genera governi corrotti ognuno di noi vorrebbe cambiare il mondo ma sa bene che non può fare domande a un livello superiore al proprio stipendio certo possiamo andare avanti col nostro vocabolario di luoghi comuni possiamo dire ad esempio noi non governeremo mai coi razzisti e magari governi con berlusconi uno che ha detto testualmente a me una donna che si fa scoppare da un negro mi fa schifo questa è ideologia pura ora che un malato di figa che rinuncia al piacere per questioni ideologiche deve essere tanto motivato io non ne sarei capace sono stato a letto con una oggi pomeriggio mi fa premetto che io voto salvini è un problema per te e dipende i pompini li fai sì e allora siamo a posto dobbiamo arrenderci all'idea che noi non seguiamo le regole perché non ci fidiamo di chi le fa perché chi le fa ci assomiglia allora prendiamo modello i paesi nordici a parte che un paese che ha i stessi abitanti di reggio emilia è un attimo più gestibile ma prendiamo ad esempio la svezia loro seguono tutti le regole poi se la regola dice di andare storti loro vanno tutti storti una regola stupida è pur sempre una regola noi italiani siamo più possibilisti per questo saremo sempre nella merda c'è stato un trio di comici a bologna si chiamava trio reno erano geniali per questo non senti parlare di loro e continui a sentir parlare di boldi e desica il trio reno aveva dipinto lo spirito della nazione attraverso piccole cose ad esempio attraverso la lettura dei segnali stradali ad esempio divieto di inversione a u di qua non vi è nessuno di là non vi è nessuno la farò a s la farò a y sono tante le vocali sono tante le consonanti siamo capaci di adattarci alle situazioni ma ci adattiamo un po a cazzo perché sovrastimiamo noi stessi ne sappiamo più degli addetti l'allenatore non capisce l'amministratore è un idiota il medico ne sa meno di tua cugina che fa l'estetista dal dizionario del diavolo stima di sé valutazione sbagliata ecco per questo noi pensiamo che esista un dio che ha fatto questo mondo appositamente per noi ci conosce per nome non fa errori di omonimia e ha un piano per ciascuno di noi miliardi di piani cazzo altro che reddito di cittadinanza catechismo una raccolta di indovinelli teologici in cui dubbi universali ed eterni vengono risolti con risposte limitate ed evasive ora la forza di una bugia è direttamente proporzionale al numero di persone che ci credono è per questo che vanna marchi è andata in galera e invece il papa è un capo di stato d'altronde il dizionario del diavolo alla voce chiaro veggente dice persona dotata della facoltà di vedere ciò che il suo cliente non vede cioè anzitutto che è uno stupido stiamo vivendo la sceneggiatura del film idiocrasi in questo paese si pretende che quelli che fanno i massaggi abbiano la laurea mentre un ministro all'istruzione può anche avere la terza media l'attuale ministro alla distruzione dell'istruzione ha siglato un protocollo con i pediatri in modo che i professori possano somministrare psicofarmaci ai bambini non siete neanche più capaci di tenere dietro i bambini l'unico modo che avete per parlare con loro è sedarli chimicamente come siete messi allontanate i bulli e i violenti dalla scuola ma sono proprio i bulli e i violenti che hanno bisogno della scuola lo so che capite solo il lato emotivo delle cose magari potrei farvi vedere qualche foto di bambini che muoiono di fame mettendoci una musica strappalacrime avevo scritto anche una nina nanna per mio figlio ma non posso cantarvela perché me la sono rivenduta alla samsung l'ho fatto per il suo futuro purtroppo il nostro futuro non sarà tanto diverso dal nostro presente perché siamo tutti affezionati alle nostre intossicazioni è difficile rinunciare alla vertigine leggera che dà il telegiornale della sera ma che mondo stiamo lasciando ai nostri figli che testa gli stiamo lasciando abbiamo perso il vocabolario non sappiamo le parole l'ecologia che cosa non sappiamo neanche che cos'è l'ecologia l'unica cosa che riusciamo a pensare è imporre una tassa per chi inquina ma attenzione non per chi produce inquinamento è ma per l'utente ultimo dell'inquinamento è così uno che ha una tipo che inquina di meno perché va più piano pagherà 1200 euro uno che ha una ferrari che inquina di più pagherà 2500 euro ma scusa per quello che guida la ferrari 2500 cazzo è il prezzo del coprivolante me lo vedo il magnaschei che dice c'ho 2500 euro ci metto ben sei minuti a farli su quasi quasi passo alla panda mille ma è chiaro che ci sono in giro più fiat che ferrari la massa fa massa una cagatina a testa fa un maio prendi ad esempio le polveri sottili nel 2005 le cause principali erano automobili e industria oggi la principale causa è il riscaldamento di abitazioni e luoghi di lavoro cosa significa questo che siamo diventati dei fighetti mollicci che vogliamo stare con la canottiera traforata e gli hot punt tipo freddy mercury ma mettetevi un maglione dio caro e smettetela di puntare la caldaia sull'attacca tropical tu credi di seminare la merda ma lei si riorganizza e ti raggiunge vedete noi abbiamo la tendenza a progredire intellettualmente ma il commercio ha bisogno di idee conservatrici ha bisogno di gente abitudinaria perciò quando c'è un'idea veramente innovatrice che toglie corrente a vecchie idee retrive superstizioni scatta il gruppo di continuità che mantiene in vita le vecchie idee è pronto a ritirarle fuori alla prima occasione di difficoltà e per questo che durante le crisi economiche invece di farsi venire nuove idee economiche la gente sta a discutere di terra piatta di armamenti pesanti ma anche di massacri perché questo è il comodo della democrazia non serve che sia stronzo direttamente tu puoi pagare uno che lo sia per te tutti vogliono cambiare il mondo vigliaca se ce n'è uno che vuol cambiare se stesso adesso va di moda la frase potere al popolo l'ho sentito dire anche da una ragazzina di 15 anni ha giunto il momento del cambiamento adesso il potere deve andare al popolo ma signori miei la parola c'è già si chiama democrazia significa potere al popolo ma noi abbiamo perso il vocabolario è una bugia che conosciamo già d'altronde il dizionario del diavolo alla voce democrazia dice sistema politico che permette a qualcuno di votare una persona scelta da qualcun altro quando un politico parla di potere al popolo fa pompini a satana adesso ve lo faccio spiegare da bill x il popolo ce l'ha già il potere potrebbe già modificare il mondo semplicemente modificando i propri comportamenti ma non lo facciamo perché siamo intubati nelle cazzate è inutile che ridicolizziamo le donne dei paesi maschilisti del medio oriente perché girano col burca noi stessi giriamo con un burca intorno fatto di cazzate di cattivi pensieri di prodotti di questi meme questi spiritosaggini che ci trasmettiamo come un virus un burca come un velo di maia che ci offusca la realtà e fa vedere di noi al mondo un'immagine distorta stavo guardando un film ambientato nell'antico egitto su la 7 c'era tanta di quella merda commerciale che alla fine il faraone aveva la faccia del mastro lindo la sfinge dava consigli sugli assorbenti se il potere ce l'avesse veramente il popolo avremmo 10.000 atomiche in più ci cureremmo coi carciofi elimineremo le conoscenze che non arriviamo a comprendere non ne posso più della retorica del popolo sono più esausto dell'olio di una frigitoria cinese non ne posso più di questi luoghi comuni di questi meme grammaticalmente imbarazzanti che parlano del popolo e allora guardiamolo questo popolo in questo paese dove tutti si scannano sugli spalti come a una partita arbitrata male il governo azzurro il governo rosso nero il governo giallo verde un campionato di periferia senza var coi tifosi che minacciano l'arbitro e le squadre che si allenano una volta alla settimana partite piene di sgambetti di colpi sotto la cintura di fuorigioco mai segnalati partite truccate in corso d'opera coi tifosi scrausi di quelli che bucano le gomme della corriera col trapano e scrivono forza con la z all'incontrario stadi tirati su col cartongesso con le immancabili gastronerie edilizie parcheggi autobloccanti docce con la vernice lavabile un paese dove ogni terremoto è un condono edilizio un paese dove scuola significa stipendio degli insegnanti dove arte significa cacciopero dell'orchestra dove ambiente significa benzina euro 7 un paese che non porta rispetto un paese dove le star della televisione sono dei cazzo di cuochi potere al sedano un popolo che si esalta se qualcuno fa la voce grossa con malta un paese dove dire no significa avere un'idea dove non c'è un'associazione che non abbia querelato qualcuno un popolo di permalosi un paese dove si fanno le leggi su instagram dove se non mandi a fanculo qualcuno sei un buonista del cazzo un paese dove se non ruti sei chic un popolo che fa lo smarciasso coi poveracci e le calculo agli evasori un popolo che spara ai ladri solo se non hanno una carica pubblica un paese che non trova più l'australia dove cazzo l'ho messa eppure era dietro l'armadio un paese dove la smentita di una fake news è solo una scoreggia di verità nella galleria del vento dell'ignoranza un popolo che maltratta l'italiano e pretende che gli stranieri lo parlino meglio di lui un paese di intelligentoni che ignorano l'arte ma abboccano alla retorica dell'arte come l'artista che mi vende un'opera che poi si sgrettola scusami Bax Bansky ma io uno che mi vende un'opera che poi si sgrettola lo pagherai con soldi che poi si dissolvono perché l'arte è eterea ma il compenso è da listino un paese dove quelli che non sanno un cazzo di vaccini si scannano sui pro e sui contro dei vaccini mentre quelli che ne sanno di vaccini hanno la stessa amabilità di un albero di natale nel culo ma con la punta fatta angelo però un paese dove il presepio è una questione ideologica e la libertà di stampa una rottura di coglioni un paese che butta via tonnellate di cibo non consumato e disprezza quelli che muoiono di fame un paese dove i disoccupati hanno due lavori che crede alla balla della soglia di povertà e sperpera 100 miliardi l'anno in videopoker un paese dove se non c'è il wifi siamo al medioevo e invece è normalissimo che i bambini per andare a scuola si portino la carta igienica da casa un paese dove i bambolotti scuri sono esclusi dai giocattoli per bambini un paese che perdona un prete che incula i bambini e crocifisce Asia Argento per aver insegnato a un coglione cos'è la figa un paese dove ti arrestano se compri l'amaro del duce e invece se sei il partito fascista mascherato da circolo culturale ti regalano la casa dove se non sei laureato puoi fare il consulente economico se hai la terza media puoi fare il ministro all'istruzione se sei un prete puoi parlare di scienza e se sei il generale caster puoi occuparti dei diritti dei pelli rosse un paese la cui verità è contenuta in un esoscheletro di bugie rivestite dalla retorica crudele dei buoni sentimenti come dire buon anno a tutti in una società competitiva ben sapendo che per essere un buon anno per me deve essere un anno di merda per te un paese che come dice il poeta dovrebbe liberare il mondo sprofondando nel suo bel mare ma come si fa a prendersela con questo popolo io provo anzi commozione per questo popolo che ci prova ma non capisce che si ferma la prima parola che dici perché è stato seviziato fin da piccolo dai lestofanti del linguaggio mangia la mozzarellaina butta giù l'olivella con cosa lo tagli il tonno col grissino hai lì un coltello che non serve a un cazzo cagati addosso con tranquillità nei nostri pannoloni si caga meglio mettiti la dentiera e fai finta di sorridere anche se la prostata fa spinning parla a 15 euro al mese anche se non hai un cazzo da dire nella vita guarda un film altamente professionale nella tua minchia di schermino lungo quanto il tuo pene lo sappiamo che non ti vengono due idee di fila e te le abbiamo fatte preparare preconfezionate già precotte dai nostri master chef del pensiero gli opinionisti televisivi guarda gli opinionisti televisivi che dicono sempre le stesse cose tutte le sere e domani ripetile così anche tu potrai pensare di pensare il problema dei migranti io lo dico da tempi non sospetti è un problema semplice e al tempo stesso complesso perché qua non si tratta di dire tienimi il cane che vado a passare le terme non si tratta di chiedere scusa alla cina perché hai mangiato i cannoli coi bastoncini qua si tratta di stabilire una volta per tutte le regole del gioco fuori dal teatrino della politica con franchezza senza compromessi intanto bisogna sgombrare il campo da un equivoco insidioso perché se qualcuno pensa che mettendo le mani nelle tasche degli italiani poi gli italiani stanno con le mani in mano sbaglia prospettiva kissinger diceva l'unica politica interna è la digestione o forse lo diceva miteran comunque uno dei due o tre se si conta anche rommel ma forse l'ha detta johnny holiday comunque uno di questi quattro anche se mi pare che l'ha detta nelson mandela ma il punto non è questo potrebbe averla detta anche putin ma il quadro non cambia il punto è che il cittadino ha il dovere di esserci quando non è assente è chiaro che non si può cantare e portare la croce anche se io penso che sia più difficile cantare e masticare il chewing gum credo che con un po di applicazione cantare e portare la croce non sia proibitivo ma mi pare che la frase di prima l'ha detta pertini comunque quando non trovi parcheggio hai solo due scelte o parcheggi in sosta vietata o dai fuoco alla macchina certo uno potrebbe anche andare via senza parcheggiare ma in quel caso manca la premessa uno mi dirà ma parcheggiare in sosta vietata è illegale certo anche il cristianesimo era illegale e guarda che razza di quartier generale che hanno messo su la realtà non è un giro ti do le conseguenze non sono mai ciò che appariva nel tuo diario delle medie ma mi sa che quello della frase era charles manson o bronson quindi tornando al problema delle pensioni perché mi pare che è di questo che stavamo parlando noi siamo oggi a un bivio siamo messi di fronte a una scelta e dobbiamo essere molto chiari con noi stessi che tipo di stato vogliamo vogliamo uno stato che ci rimbocca le coperte e ci legge la fiaba della buonanotte voglio la sirenetta te l'ho già letta no ma stavolta fai anche le facce e le vocine o vogliamo uno stato che ti dice ecco le chiavi ma rientra a mezzanotte che questa casa non è un albergo certo se sei figlio dell'albergatore può essere che la tua casa sia un albergo ma non è una buona scusa per rientrare alle 4 col telefono spento o non raggiungibile o entrambi i casi perché delle due l'una o stiamo dalla parte della legalità o stiamo dalla parte dell'arbitrio lo so che potremmo stare anche da un'altra parte tipo dalle parti di esolo ma qua non siamo su google map che ti dicono se devi andare a destra o a sinistra o quando possibile fare un'inversione a u insomma a proposito di gilet gialli non basta dire che il canone è alto per fare il ministro alle telecomunicazioni anche un cretino può dire che il canone è alto e con questo non voglio dire che un ministro non abbia diritto ad essere cretino perché siamo in democrazia e in uno stato libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno domani sono un disoccupato perciò tornando al tema del lavoro io credo che sia giusto che ciascuno tiri l'acqua al suo mulino ma l'importante è tirarla l'acqua e lo dico fuori di metafora se parliamo di tav perché credo che sia questo il tema io direi che da una parte c'è l'occupazione dall'altra c'è la preoccupazione ed è questo il momento di fare delle scelte perché il riscaldamento globale non sta in coda ad aspettare che tu finisca di grattare il tuo gratta e vinci per vedere se hai vinto un altro gratta e vinci il riscaldamento globale non ti dice passi avanti lei che ha solo due articoli anche perché già paghi meno di me non vedo perché devi anche passarmi davanti alla cassa perché non possiamo essere approssimativi quando parliamo di terrorismo islamico o diciamo no alle moschee o diciamo sì ai vaccini e non possiamo negare che c'è una bella differenza tornando al tema delle famiglie tra dire non sono del posto e dire se sei d'accordo clicca mi piace perché io posso essere d'accordo e magari non sono del posto e non è detto che la cosa mi piaccia ma mi sa che la frase era di umberto eco o burioni se uno dice lo snowboard alza il fatturato dell'ortopedico posso essere d'accordo ma non mi piace l'idea e comunque se il fatturato si alza il fratturato non si alza adesso mi viene in mente che la frase era di italo calvino ma c'è sempre un pro e un contro quando si parla di razzismo perché se noi trascuriamo l'enorme contributo dato dalla chiesa al mondo dell'edilizia vediamo la cosa sotto una prospettiva sbagliata e sappiamo bene che la gente sa sempre cosa vuole sa sempre di cosa ha bisogno come testimoniano migliaia di clienti di vanna marchi io dico che non serve leggere fusaro per capire che c'è un sacco di confusione in giro l'europa ce lo chiede non è più il momento di fare delle chiacchiere adesso bisogna agire quindi rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci tutti attorno a un tavolo e discutiamo ciascuno sulle sue posizioni con trasparenza senza contrasti perché sappiamo bene e fingiamo di non sapere che tutti gli italiani hanno un unico obiettivo comune e cioè l'indipendenza del veneto insomma buon anno l'indipendenza del veneto insomma buon anno